Guagliarulo, accomodatevi! Maresciallo, vi posso ringraziare per il permesso che mi avete concesso? Ma voi lo meritate, Guagliarulo, voi siete un carabiniero serio e preciso e quindi quando si può fare un piacere uno ve lo fa con piacere. Ma spiegatemi l'agosto, perché avete voluto questo permesso venire poco prima, perché? E devo andare alla stazione, devo andare a prendere il treno. Ah, ho capito. Anzi, vi volevo chiedere, sapete per casa a che ora parte il treno delle 11.45? Il treno delle 11.45, se non mi sbaglio, a mezzo giorno meno un quarto. Quasi!